Un programma ricchissimo, si va da Sorrentino, dal Modovar, abbiamo due premi Oscar, tanto per dire, ma ce ne sono tantissimi, tra l'altro Barbera quasi ogni anno azzecca l'Oscar, quindi ce lo aspettiamo anche quest'anno. Tra gli addetti e i lavori che seguiranno con particolare attenzione le proiezioni del 78esimo Festival Cinematografico di Venezia, c'è anche Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission, che assieme alla Regione Veneto, ha allestito, nello storico Hotel Excelsior, ridosso del Palazzo del Cinema, uno spazio eventi con un ricco calendario di appuntamenti di approfondimento a 360 gradi sulla settima arte. Il Veneto è un set ideale perché ha tanti scenari molto diversi gli uni dagli altri, per cui si va dalla montagna al mare, alla laguna, al lago, al fiume, alle città, città d'arte, quindi effettivamente per le produzioni il Veneto è una grande risorsa. Noi esistiamo da poco, diciamo che la fondazione è data di due anni fa, l'operatività di un anno e mezzo circa, quindi di fatto siamo la più giovane film commissione italiana e sicuramente anche con l'introduzione del fondo di sostegno alla produzione da parte della Regione Veneto c'è un grandissimo interesse verso il Veneto come set. Oltre a promuovere un territorio, a preservarne e valorizzarne la cultura e le diverse realtà, il cinema rappresenta anche una risorsa economica in grado di creare migliaia di posti di lavoro. Il Veneto è sicuramente, diciamo, ha moltissime figure estremamente capaci, estremamente professionali, c'è da fare un grande investimento in formazione, soprattutto per le generazioni più giovani. Più o meno quanta gente lavora nel cinema in Veneto? Bella domanda, io credo che siamo nell'ordine di qualche migliaia con un grande punto di domanda che sono tutte quelle realtà che sono a scavalco, penso banalmente alla ristorazione e agli alberghi che ovviamente hanno una grandissima parte, tutto l'indotto ha una grandissima parte o le location e quella è difficile da stimare.